D'accordo ragazzi, ultimo video per parco dei cacciai E per ultimo video di un mondo intendo il bastardo CTR di Ola di turno Dunque, via la rocciosa, anche questo è veramente abbastanza scleroso Non come un verifurioso, però mi sta già dando problemi perché sto provando a fare il video Ma non mi via, non mi via Oh fechi Dai, ritroviamoci per l'alto Ottocentesima volta No, ne abbiamo preso subito il cristallo, soltanto non devo fare il via proprio con me No, 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 crash, cavolo, però te la vorrei andare in qualcuno, devo rallentarmi in un lato Vai, 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 vai Sì, cerchiamo di essere abbastanza dolci Allora Siamo in altri cristalli e ci abbiamo ancora un po' di tempo 13 C'è un cristallo, vai Vai Ora lì c'è un altro da una parte opposta Un altro cristallo Merda però, non è così che doveva andare 19 Vai 20 Ci abbiamo fatta Con 7 secondi di scarto Un tempo niente male Vuol dire bene Ho rifatto il video per la seconda volta e stavolta e sono riuscito al primo Molto bene, vai Palazzo Nitro Non mi è che abbia dato particolare Palazzo Nitro sarà il prossimo CTR di Ola E non è che mi abbia dato particolarmente Difficoltà Ho sempre preso il primo Comunque ragazzi, il terzo special Quale sarà il prossimo personaggio? A giocare con il CTR Attivate le notazioni per scoprirlo Sardiamo intanto una percentuale del 66% E ce ne andiamo dritti dritti alla cittadella Mondo finale In teoria ci sarebbe ancora fatto delle geometri Ma lì sono tutte sfidette un po' particolari Non c'è gare trofeo Quindi questo è l'ultimo mondo con le gare trofeo L'ultimo mondo vero e proprio Va, intanto leggete il personaggio La cittadella, eccoci qua Bene, è stata una travaglia piuttosto corta Noi ci rivediamo alla prossima Con i primi livelli della cittadella Ciao ciao